Benvenuto, la prima opinione sul sorteggio? Il sorteggio è di quelli tosti, un girone tostissimo, come naturalmente ci è capitato agli europei e è la continuazione per cui bisogna farsi trovare pronti fin da subito e tenere nel tempo questa qualità di essere a grandi livelli. Ci sono possibilità per rimanere nel torneio? Facile? Sì, ci sono ora, ci sono le prime due posizioni che ti danno l'accesso al playoff, per cui è una competizione molto stimolante, la reputo molto intelligente, è stata fatta una scelta per far crescere qualsiasi squadra. Grazie mille, buona fortuna.